L'ho visto andare con i suoi piedi e non vederlo più. Con tutte queste circostanze hanno anche colpito il mio essere uomo oltre che giornalista. Più tempo trascorre da un omicidio, più è difficile che si riesca ad individuare gli autori. È stata una vittima un po' dimenticata. Questa è stata l'ultima volta che io ho visto Stefano in vita. A me hanno tolto un pezzo di cuore. Grazie a tutti.